La partita si è messa subito bene per noi perché siamo andati in vantaggio, siamo partiti con lo spirito giusto poi loro hanno avuto un po' di reazione ma credo che il nostro portiere sia stato impegnato poco poi c'è stata anche l'espulsione a fine primo tempo e abbiamo sfiorato il 2-0 e poi purtroppo è un momento, magari abbiamo amministrato un po' la partita quando a volte si corre qualche rischio ma per fortuna i nostri avversari credo che abbiano fatto poco la squadra ha fatto il possesso palla, ha avuto qualche occasione buona con Paloschi qualche altra potevo sfruttarla meglio ma oggi erano importanti i tre punti era importante la continuità della tenuta difensiva e siamo contenti di aver fatto finalmente di nuovo tre punti se noi chiudevamo la partita il 2-0 il primo tempo sicuramente entravamo in campo più sereni invece se tu fino alla fine porti il risultato in bilico è normale che poi magari concedi qualcosina e noi ultimamente stiamo pagando troppo, per fortuna oggi è andata bene i nostri avversari diciamo che hanno calciato veramente e raramente in porta e quindi va bene così e quindi Grazie a tutti.